Devo confermare, se ce ne fosse stato bisogno, l'estrema disponibilità dei medici di medicina generale nei confronti dei propri pazienti, perché non è sicuramente semplice organizzarsi da soli, tra l'altro, per una vaccinazione dei pazienti cosiddetti non deambulabili. Sì, ieri alcuni medici, non tutti, sono andati a ritirare le prime dosi e adesso si stanno organizzando, verificando se nelle liste che sono state spedite dall'azienda sanitaria ci sono effettivamente pazienti non deambulabili oppure magari ci sia infiltrato anche qualcuno che non deambulabile non è. Quindi questo è il primo compito del medico di medicina generale. Detto questo, ci sono alcune criticità, chiaramente ci sono, perché alcuni medici, fortunatamente nella nostra provincia molto pochi, non hanno dato l'adesione alla campagna e quindi altri, diciamo, si troveranno nella eventualità di vaccinare anche pazienti che non sono iscritti, loro iscritti e quindi che sono iscritti dei medici che non hanno aderito alla campagna. L'altra criticità importante, di cui se ne sta parlando proprio questi giorni e stasera appunto ci sarà anche un webinar tra tutti i vari medici della nostra provincia, è che una volta ritirate le dosi di vaccino ci sono delle tempistiche brevi per somministrarlo. So per certo che stanno consegnando sia un flaconcino del vaccino AstraZeneca e sia del vaccino Moderna. Chi decide quale vaccino fare? Chiaramente il medico di famiglia, in base alle patologie che ha il proprio paziente, deciderà se fare una tipologia o l'altra di vaccino. Quindi io pregherei i pazienti di non chiedere di voler fare un vaccino al posto dell'altro perché questo non è possibile. L'AIFA ha cambiato dopo le varie vicissitudini il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca sconsigliandolo a pazienti che hanno patologie inerenti alla coagulazione del sangue e altre patologie cosiddette autoimmuni. Quindi chi meglio del medico di famiglia potrà dire a quale paziente e quale vaccino proporre al paziente stesso. Purtroppo una volta aperta la boccettina ci sono sei ore di tempo per vaccinare i propri pazienti. Questo vuol dire che siccome le dosi sono 11, in sei ore si devono vaccinare 11 pazienti. E come si può ben capire, c'è il medico di famiglia nel suo studio, ha altri pazienti, non è un semplice vaccinatore e basta. Fare vaccinare 11 pazienti in un giorno non è una cosa possibile, anche perché non è solo la vaccinazione. Una volta vaccinati devi rimanere 15 minuti per vedere se ci sono delle reazioni di tipo allergico. Per ogni paziente il medico deve mettere in preventivo circa 40-45 minuti di tempo e 45 minuti di tempo 11 pazienti in un giorno non si fanno. Quindi ci si dovrà coordinare con altri colleghi, questo è il consiglio che noi diamo, in modo che non vadano sprecate queste dosi preziose di vaccini che arrivano comunque e sempre col contagocce.